Vandanara, buonasera e benvenuta. Buonasera, grazie. Che belva si sente. Sono stata tante volte in Africa, allora penso che una leonesa, perché innanzitutto sono mamma di cinque figli e ho visto in prima persona in Africa come difendono... Come le proteggono. Sì, proteggono i suoi cuccioli, no? Lei una volta ha detto, io e Argentina come Belen, senza offesa, al mio paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Belen, dice. Sì, perché Belen mi pare che è venuta qua in Italia da piccola. Cioè più famosa lei, vuole dire. In Argentina lei non ha fatto nulla, io in Argentina sono un po' come Belen, perché da piccolina che lavoro, da quando aveva cinque anni che lavoro. Qualcuno l'ha paragonata alla maga Circe? Lei è un po' maga, un po' Circe? Non lo so. Se lo ricordo al personaggio americo, come era, seduceva gli uomini e poi li trasformava in maiali, la maga Circe, no? Sembra così, ma in realtà a casa non è tanto come si vede fuori. È seduttiva lei però. Sì. Lei ha detto che sia Netflix che HBO le hanno proposto di raccontare la sua vita in una serie e ha detto, molte persone pensano di sapere tutto di me, ma giuro che molti dettagli piccanti non sono mai stati pubblicati. Eh, immagino, quindi stasera non ci deluderà. Speriamo. Vediamo le domande che mi farai. No, perché a volte i gossip o i giornali fanno uscire quello che vogliono far uscire. Ci sono a volte delle cose che io dico, ma questo non è vero. E invece quale dettaglio piccante ci siamo persi? Non lo so. Lei di se stessa ha detto, ho carattere e picardia, astuzia, è astuta, è furba lei? Sì, sono furba e penso che è un senso di intuizione. Magari ti vedo e già so subito dove vuoi arrivare. Ho quel senso lì e me lo porto con me da tempo, da piccola e è quello che mi ha aiutato tanto nella mia carriera, anche nel mio lavoro. Mi dici un suo pregio? Uno, eh? Uno, sono tanti. Eh, immagino. Certo, sempre. Non lo so, la simpatia. Simpatica. Sì. E un suo difetto, vero? La simpatia a volte. No, no, guarda. Io impazzisco. No, perché il problema è che a volte viene capita male questa simpatia. C'è gente che magari... Vabbè, mi dica un difetto peggiore della simpatia. Un difetto è... Uno proprio un po' sgradevole, ce l'abbiamo tutti. Dobbiamo chiedere magari a mio marito che ti può dare una lista intera. Ma lei, lei lo sa un po'. È un difetto. Eh, mi viene. Sono molto disordenata, questo non mi ricordo nulla. Uno peggiore? Peggiore? Eliminiamo pure ritardataria che sono i finti difetti. Mi dica un difetto vero. Non lo so. Questo è un difetto brutto, eh. Vabbè, non gli viene. Senta, è permalosa? Lo chiedo sempre all'inizio, eh. Eh... No. Per permalosa? No. Meno male. Lei ha detto, con gli strumenti che ho avuto, ho realizzato molto. Tuttavia, se non avessi avuto tutto questo, sarei stata comunque una persona di successo. Anche mettendo su una griglia che immagino tendesse barbecue, no? Quindi lei era comunque destinata al successo, qualsiasi cosa... Ho iniziato, non lo so, come... Era una tata, era bravissima, allora tutte le mamme mi volevano a me come tata. E' come che metto tanto quello che io faccio, metto veramente il cuore. Allora penso che qualsiasi cosa che avrei scelto nella mia vita sarebbe stato un successo. Sì. E cosa le piace del successo? Ed il successo mi piace un po' tutto. Anche il successo ti arriva un po' ai soldi, che dove vogliamo arrivare tutti quando facciamo le cose bene al lavoro, no? E che coprono i soldi? Io sempre... Mio papà mi ha insegnato che... Sempre mi diceva, tu non chiedere soldi. Ah. Se tu sei brava in quello che fai... Ti arrivano. Sì, ti arrivano, non ti faranno mai uscire da un lavoro. Mi cagherai da sola il prezzo. E lei ha guadagnato. E l'ho fatto così. Lei fa molte cose e ha fatto molte cose. Modella, artista, gente, personaggio televisivo. Però se dovesse scegliere la cosa che le riesce meglio professionalmente, cos'è? E a fare dei contratti mi piace troppo. Quindi la gente, diciamo. La gente, sì. Lei è più amata o più odiata, se dovesse dire? Io penso che più amata. E soprattutto delle donne, che è quello che mi interessa a me un po' di più. E chi l'ama, l'ama perché? Chi la odia, la odia perché? Chi mi ama, mi ama perché vedi magari me, quello che vuole essere. Magari a volte le donne sono un po' ancora, come si dice, frenate dalla società, da quello che magari dice qualcuno. Soprattutto... E lei è libera, vuole dire? Sì, io mi sento libera. E chi la odia, invece, non la sopporta perché? Chi mi odia, mi odia per la stessa cosa.